Al Teatro Reggio di Parma tornano le passioni forti della lirica con la prima del Trovatore in scena fino alla fine d'ottobre per il Festival Verdi. Sono onorata di calcare questo palcoscenico, è meraviglioso e il pubblico veramente conosce bene le opere. È un'opera d'amore alla fine perché ognuno cerca il suo amore, c'è il soprano innamorato del tenore, il barito innamorato del soprano. Dopo Rigoletto e Traviata nelle edizioni scorse, il Festival di cui Mediaset e Partner propone la terza opera popolare nell'interpretazione tradizionale del direttore Massimo Zanetti, compresa l'applauditissima aria di quella pira. Regia e scene moderne hanno suscitato qualche critica fra i tradizionalisti, fasci di luce al posto di fiamme e roghi. Indubbiamente è un pubblico molto esigente ma proprio per questo è una sfida che dobbiamo assolutamente vincere. Un mese di musica con centinaia di appuntamenti fra opere, concerti, recital, perfino nelle carceri o negli ospedali con il ciclo Verdi Off. La prima è la realizzazione di uno spettacolo su Falstaff per l'ospedale dei bambini. Grazie.